Il nostro progetto è Save Your Energy, un servizio di consulenza finalizzato al risparmio energetico, all'educazione, alla sostenibilità e all'assistenza tecnica nella scelta dei preventivi di spesa. L'elemento innovativo è il modello di remunerazione che è il Profit Saving Sharing. I nostri clienti infatti non sosterranno alcun costo per la consulenza, ma rinunceranno a una percentuale sui risparmi energetici conseguiti che rappresenta il nostro ricavo. I nostri potenziali clienti sono tutti soggetti sensibili al risparmio energetico, quindi famiglie ma anche piccole e medie imprese o enti pubblici, perché l'efficienza energetica ormai è un obiettivo strategico per ogni operatore economico. I nostri concorrenti sono colossi come Enel Green, Sorgenia, Ion Trading, Eletrade, che offrono tra gli altri servizi anche pacchetti di consulenza energetica. La nostra invece è solo un'impresa di consulenza di piccole dimensioni e quindi più flessibile e si distingue per la formula remunerativa del Profit Saving Sharing, che risulta molto conveniente per gli utenti che non devono sopportare alcun costo. Inizialmente ci rivolgeremo solo al mercato locale, Liguria, Piemonte e Toscana. In seguito non escludiamo di poter allargare il nostro giro di affari anche ai paesi dell'area mediterranea. Abbiamo pensato all'inglese e al francese nella prospettiva di espandere il nostro target nei paesi mediterranei e di sviluppare l'e-commerce. Come garantiamo il rispetto dell'ambiente? Vogliamo diffondere la sostenibilità dei consumi energetici offrendo nel contempo l'opportunità di risparmiare. Se your energy, accendi il cervello, spegni la luce! Sono Nicolò, Denise, Marco, Enrico, Gabriel, Doardo, Francesco, Giulia.